Benvenuti su Gossip e Notizie. Iscriviti per restare aggiornato su tante notizie. Grazie. Michelle Unziker si trova in Germania, più precisamente a Köln, insieme alla sua parrucchiera e meca-quadist Laura Barenghi. La conduttrice svizzera e la sua collaboratrice si trovano nella città nordica per alcuni impegni di lavoro e, tra un appuntamento e l'altro, hanno deciso anche di visitare le attrazioni più importanti e significative della città. Sicuramente una di queste è il Ponte dell'Amore. Michelle ha registrato una storia divertente sopra alla mastodontica struttura e ha anche fatto una battuta in merito. Michelle Unziker e Laura Barenghi sono in viaggio per diversi impegni lavorativi in Germania. Nelle scorse ore sono state ad Hamburgo e, poi, si sono spostate a Köln. La conduttrice svizzera sta raccontando i momenti più divertenti insieme all'amica sul proprio profilo Instagram. Le due sono state sul Ponte dell'Amore che è davvero imponente e caratteristico perché le sue ringhiere e austre sono letteralmente ricoperte di lucchetti lasciati dalle coppie innamorate. Michelle ha scritto, il Ponte dell'Amore. Sì, crediamoci, con tanto di emoticon con le lacrime dalle risate e, poi, ha aggiunto, quanta gente che si ama Laura. Ma quanti di questi staranno ancora insieme? Dobbiamo essere romantiche, ha concluso ridendo. Michelle Unziker, in questo momento, dovrebbe essere impegnata con Matteo Viezzer, manager trevigiano impegnato nel settore dell'alta moda. I due si sarebbero conosciuti grazie ad Anna Tatangelo e al fidanzato Mattia Narducci. La conduttrice, che per quanto riguarda la sua vita privata è sempre molto riservata, non ha mai rivelato nulla del nuovo fidanzato. Grazie per l'ascolto e iscrivetevi al canale per essere aggiornati su tante notizie. Grazie.